Mister Mariotti, bentornato. Qual è stato l'impatto con lo spogliatoio e con l'ambiente? Se dicessi è stato positivo, direi una cazzata. Io non le dico, è tutto quello che sapete. Tanto giro le parole, poi le domande e le reazioni sono sempre le stesse. Dobbiamo solo andare al campo, giocare e basta, senza pensare chi siamo, chi eravamo, quello che dobbiamo fare, dobbiamo vincere, dobbiamo perdere, dobbiamo solo giocare e basta. Certamente non c'è un grande entusiasmo, è quello da riformare, ma è in tutte le componenti. Però dopo si riparte sempre, si riparte sempre per fare bene, per fare meglio. Rispetto a quando lei è stato mandato via, perché questo è successo, è tutto più maledettamente difficile. Anche risollevare il morale dello spogliatoio? Assolutamente sì, sono andato via che eravamo terzi a 5 punti, ritorno che siamo non so dove a 15 punti. Quanta rabbia ha dentro. Niente, è lavoro mio, sono tranquillissimo, perché poi il tempo ti dà una risposta. Allora, veniamo a parlare della partita di domani, perché è fondamentale come saranno tutte le partite da qui alla fine del campionato. Che Arezzo dobbiamo aspettarci? Annalizzo cattivo, cattivo devi pensare partita per partita, devi pensare avanti, dietro, niente, devi pensare che devi andare al campo e non fai brutte figure. E dimostrai ai giocatori chi sono, che giocatori sono, ma soprattutto che uomini, ok? E non servono le parole, serve soltanto fai i fatti. Purtroppo partiamo, che siamo lontanissimi, lontano, lontano, lontano. E io mi sono imparato che poi nella vita quando vedi che è lontano forse devi guardare pure dietro. Lo spogliatoio ha cambiato un po' la fisionomia. Molti dei giocatori che lei ha salutato non ci sono più, ci sono nuovi volti, ha già preso confidenza, mi immagino. Sì, ma li conoscevo tutti, tutti i giocatori di categoria che conosco ormai da tanti anni. Quello che mi fa specie, mi fa rabbia, ho detto a loro perché sono andati via giocatori forti e uomini forti. E arrivano giocatori forti e uomini veri e come mai poi i risultati non vengono? E allora vuol dire che noi dobbiamo dimostrare a noi stessi per primo di essere bravi. Tutti mi dicono, no, ma tu sei tornato e non ha due a rivincere. No, non è la mia via a rivincere. Io ho chiamato pure il mister Susi, ho fatto la mia vicinanza perché ogni allenatore che viene a serata ha sconfitto di tutti. Non di una parte solo, di tutti, di tutti o di altri 160 gradi. Perciò questo è quello che dice il campo e mi ha insegnato in tanti anni. Perciò io non so nessuno, sono venuto qui per ridare tranquillità e serenità. E' il primo che so tranquillo e so sereno io perché non cerco di vincere con nessuno. Questo è il mio lavoro, lo amo, come ho sempre fatto, lo amerò sempre e tutto il resto sono tutte parole e chiacchiere.